Incominciare dalla fine è spesso un buon inizio. Questa frase un po' sibillina ci serve per introdurre l'argomento che tratteremo ora, i risultati di apprendimento a tesi. Ma perché è così importante incominciare un percorso di progettazione dell'innovazione didattica proprio partendo dalla fine, cioè dall'individuazione dei risultati di apprendimento a tesi? Ce lo spiega molto bene uno dei grandi filosofi del nostro tempo, Emanuele Severino. Se un'azione abbandona il proprio scopo per assumerne uno diverso, allora essa stessa diventa qualcosa di diverso, cambia contenuti, ritmi, intensità, rilievo, configurazione. Quando parliamo di esperienze didattiche, i risultati di apprendimento a tesi, cioè lo scopo, determinano le azioni didattiche, ma allo stesso tempo le azioni didattiche determinano lo scopo, cioè i risultati di apprendimento a tesi. In un'esperienza di insegnamento e apprendimento, tutti i soggetti coinvolti avranno i loro scopi, gli studenti naturalmente, il docente e i suoi collaboratori. Ma la cosa che è importante mettere a fuoco fin d'ora è che responsabilità del docente, designer dell'esperienza di apprendimento e di attivatore di questa esperienza, andare a formulare, fin dall'inizio in modo molto chiaro, i risultati di apprendimento a tesi. Questo perché gli possano essere da guida nella progettazione delle attività di insegnamento-apprendimento e nella scelta degli strumenti di valutazione che gli permetteranno di osservare se i risultati di apprendimento a tesi sono stati raggiunti. Allora, attenzione, abbiamo qua nominato tre elementi, risultati di apprendimento a tesi, attività didattiche e valutazione. Questi tre elementi costituiscono i pilastri fondamentali di uno strumento logico che ci sarà di grande aiuto lungo tutto il percorso di progettazione dell'innovazione didattica. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Riuscite a riconoscere questa immagine? Si tratta di un'isola? Qualcuno è in grado di collocarla geograficamente da qualche parte? Vi lascio un attimo per pensarci. Magari qualcuno l'ha già indovinata. Si tratta della Tasmania, isoletta che si trova a sud, non così piccola poi perché in realtà l'Australia è gigantesca, che si trova a sud dell'Australia. Perché ci interessa così tanto la Tasmania in questo momento? Ci interessa perché è la patria d'origine di un personaggio importantissimo per il nostro percorso, che è John Biggs. John Biggs è un famoso pedagogista, nato appunto in Tasmania, ma che poi ha sviluppato tutta la sua carriera in Canada, che ha costruito per noi uno strumento logico di grande utilità, detto appunto il triangolo di Biggs. Cosa ci dice il triangolo di Biggs? Ci dice che il prerequisito per una didattica efficace è che ci sia un corretto allineamento logico tra i risultati di apprendimento attesi, le attività di insegnamento-apprendimento che vengono messe in campo per supportare gli studenti nel raggiungimento di quei risultati e i processi di valutazione che vengono attivati per osservare se quei risultati di apprendimento attesi sono stati raggiunti. Questa prospettiva è definita da Biggs allineamento costruttivo. In che senso allineamento? Questo appare evidente già da questo schema, nel senso che il prerequisito per una didattica efficace è riuscire a creare un allineamento coerente tra i risultati di apprendimento attesi, le attività di insegnamento-apprendimento e i processi di valutazione utilizzati per osservare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Ma perché questo allineamento è costruttivo? Perché permette allo studente di costruire il proprio apprendimento. Nella prospettiva di Biggs, infatti, nel processo di insegnamento-apprendimento è centrale il ruolo dello studente, che, grazie al fatto che il docente crea un contesto di attività di insegnamento-apprendimento adatto, riesce a costruire i propri risultati di apprendimento, che poi il docente potrà andare ad osservare con i processi di valutazione. Una piccola precisazione terminologica. Biggs, nel suo allineamento costruttivo, ci parla di Intended Learning Outcomes. Tradurre in italiano questa espressione non è banale, perché mentre con i Learning Outcomes ce la caviamo facilmente parlando di risultati di apprendimento, l'aggettivo Intended è un pochino più difficile da tradurre. Viene normalmente tradotto con attesi, che però ha una pregnanza un pochino passiva. La visione, invece, di Biggs sottolineava il fatto che questi risultati d'apprendimento sono attesi nel senso di ricercati, voluti fortemente Intended, dal docente che li ha formulati. La prospettiva introdotta, invece, dalla GTO a tesi potrebbe far pensare all'idea di un docente che, dopo aver attivato il suo percorso d'aula, attende che gli studenti raggiungano i risultati d'apprendimento. Non è questo che ci dice Biggs. Biggs ci dice, una volta che abbiamo formulato i risultati d'apprendimento, dobbiamo fare tutto quello che possiamo per attivare un contesto favorevole al loro raggiungimento. Nella sua riflessione sui risultati d'apprendimento attesi, Biggs ci ricorda un'altra cosa molto importante. Nel momento in cui noi andiamo a progettare i risultati d'apprendimento attesi per un insegnamento, non ci dobbiamo scordare il fatto che questo insegnamento si inserisce in un contesto più ampio, contesto che è costituito dagli altri insegnamenti che compongono un corso di studi e dall'insieme dell'istituzione in cui questo corso di studi si inserisce. Quindi nel momento in cui noi andiamo a progettare i risultati d'apprendimento di un singolo insegnamento, dobbiamo avere bene a fuoco quali sono i profili in uscita previsti dal corso di studi nel quale l'insegnamento si inserisce, e dobbiamo mettere una particolare attenzione nel ricordare quali sono gli altri insegnamenti che, con ogni probabilità, i nostri studenti seguiranno contemporaneamente o dopo quello che stiamo progettando, e mettere a fuoco, nel modo migliore, i risultati d'apprendimento attesi anche in funzione di questo contesto più ampio. Proviamo ora a ricapitolare che cosa ci possiamo portare a casa dall'approccio di Biggs. Un'esperienza di progettazione didattica potrebbe partire come primo passo da una formulazione accurata dei risultati d'apprendimento attesi, dopodiché concentrarsi sulla progettazione delle strategie di valutazione che mi permettono di osservare se quei risultati d'apprendimento attesi sono stati raggiunti, e soltanto a quel punto andare ad esplorare le attività di insegnamento e apprendimento che riteniamo necessarie per supportare gli studenti nel raggiungimento dei risultati d'apprendimento attesi e nel superare con successo le prove di valutazione che verranno attivate.